La richiesta per un mattino portanto, le portacce di un tanto fa, un tanto fa, la tabora assassinata, la manuzione è più per Pertigliana, per Pertigliana, con il mio po' di rischio, è vero, e a quali sacerdoti che non hanno la vita vogliamo pregare. Pertigliana, per Pertigliana, bisogna risalire sui tetti e riappruciare la parola di vita. Insieme, Padre nostro, e che sei nei cieli, che sia santo in grado e con nome, e che è il tuo regno, sia fatto la tua volontà, come in cielo e così in terra, da darsi oggi il nostro pane e vogliamo, e rinviti a noi i nostri detti, come noi riferiamo ai nostri detti, e non ci dure in tentazione, ma liberaci da male, ame. Cantiamo insieme. O buono mio, che male ti ho fatto, il tutto è provocato, dammi risposta. Tutti insieme. Forza, voce. In chiede e provocato. Dammi risposta. Daccato a tutti. Allora io dico le parole. Popolo mio, che male ti ho fatto. Tutti insieme. Com'è. Prova di. Voce. Di male. In chiede e provocato, dammi risposta.